Ciao a tutti, il motivo che vi presento oggi è questo motivo chiamato diamanti a legaccio perché come potete vedere da sole ci sono appunto dei rombi che in questo caso chiama diamanti che si alternano appunto a maglia a legaccio e a maglia rasata. Quindi è un motivo estremamente semplice e che può essere adatto soprattutto alle principianti perché non c'è niente veramente di complicato ma bensì ci sono delle alternanze tra dei diritti e dei rovesci. Sul davanti si presenta in questo modo. Mentre sul dietro il motivo è così. Tutti i ferri di ritorno o ferri pari le maglie vengono lavorate tutte a rovescio. Il motivo è formato da 20 maglie più una. Ciò significa che noi andremo a montare sul ferro un multiplo di 20 e alla fine aggiungeremo una maglia più ovviamente le solite 4 di vivagno che servono per formare il bordino. Per quanto riguarda l'altezza invece il motivo si realizza in 24 ferri. In questo caso ne ho fatti due in altezza quindi 1 e 2. Che dirvi è un motivo che possiamo utilizzare per qualsiasi tipo di progetto ad esempio delle sciarpe, dei cardigan, dei maglioni, delle maglie, delle copertine, dei cuscini e tutto quello che ovviamente preferite. Andiamo adesso a vedere come si procede. Montato sul ferro un totale di 45 maglie perché vado a fare due motivi quindi vado a fare 20 per 2 più 1 più le 4 di vivagno che andranno a formare il bordino. Partiamo dal primo ferro e andiamo a fare un solo motivo. Vivagno Vi lascio qui sopra il link che vi riporta come fare il vivagno Un diritto 3 rovesci 1 2 3 Andiamo a ripetere Per questo motivo Per questo motivo Chiudo il ferro con un diritto ed il vivagno Secondo ferro Vivagno Tutte le maglie a rovescio Fino alla fine del ferro Terzo ferro Vivagno 2 diritti 3 rovesci 3 rovesci 2 3 3 diritti 1 2 3 5 rovesci 1 2 3 4 5 3 diritti 3 rovesci 3 rovesci 1 diritto Andiamo a ripetere questo motivo Chiudo il ferro con un diritto ed il vivagno Quarto ferro Tutte le maglie a rovescio Quinto ferro Vivagno 3 diritti 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci 2 diritti Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con un diritto ed il vivagno Sesto ferro Tutte le maglie a rovescio Settimo ferro Settimo ferro Vivagno Vivagno Un rovescio 3 diritti 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci 3 rovesci 3 rovesci 5 rovesci 5 diritti 5 diritti 1 2 3 4 5 5 rovesci 5 rovesci 3 rovesci 3 diritti 5 rovesci 5 rovesci Ripetiamo questo motivo Termino il ferro Termino il ferro con un rovescio Vivagno 10 ferro Tutte le maglie a rovescio 11 ferro Vivagno 3 rovesci 1 2 3 diritti 1 2 3 rovesci 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci 3 diritti 2 rovesci Ripetiamo questo motivo Chiudo il ferro con un rovescio Chiudo il ferro con un rovescio Ed il vivagno 12 ferro Tutte le maglie a rovescio 13 ferro Vivagno 4 rovesci 1 2 3 4 3 diritti 3 rovesci 1 diritto 3 rovesci 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci ripetiamo questo motivo chiudo il ferro con un rovescio ed il vivagno quattordicesimo ferro tutte le maglie a rovescio quindicesimo ferro vivagno tre rovesci tre diritti tre rovesci tre diritti tre rovesci tre diritti due rovesci ripetiamo questo motivo chiudo il ferro con un rovescio ed il vivagno sedicesimo ferro tutte le maglie a rovescio diciassettesimo ferro vivagno due rovesci tre diritti tre rovesci 5 diritti 1 2 3 4 5 3 rovesci ripetiamo questo motivo chiudo il ferro con un rovescio ed il vivagno diciottesimo ferro tutte le maglie a rovescio diciannovesimo ferro vivagno un rovescio 3 diritti 1 2 3 3 rovesci 3 diritti ripetiamo questo motivo chiudo il ferro con un rovescio il vivagno e il vivagno e il vivagno ventesimo ferro tutte le maglie a rovescio ventunesimo ferro vivagno 3 diritti 3 rovesci 3 diritti 3 rovesci 3 diritti 2 diritti andiamo a ripetere questo motivo chiudo il ferro con un diritto e il vivagno 22esimo ferro tutte le maglie a rovescio 23esimo ferro vivagno 2 diritti 3 rovesci 3 diritti 5 rovesci 1 2 3 4 5 3 diritti 3 rovesci un diritto ripetiamo questo motivo chiudo il ferro con un diritto ed il vivagno 24esimo e ultimo ferro tutte le maglie a rovescio allora come potete vedere il motivo è praticamente terminato per ripeterlo non dobbiamo far altro che ripetere i ferri dal numero 1 al numero 24 il video e il motivo sono terminati e noi ci vediamo alla prossima ciao 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 事情 Grazie a tutti.